quando stanno future non ho scattato l'embranico mappa 4 no non sono dosta future mappa 4 eccola eccola eccolo oh vai oh vai dai muoviti eccolo 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 entra no ci si è entrato bella ragazzi bella ragazzi sono GK01 eccoci in un nuovo episodio siamo in compagnia di Alex e Luca bella bella ma perché non vai a centro Ale? perché non prendo niente basta che non prendo niente ma Luca ma che c'è lo scatto de bradico no ma come che c'è fa dal cuore due volte il doppia v frecce tu davvero? eh l'ho fatto dopo aver rotto le palle tu davvero non sapevi come si correva no lo so adesso ho cuore però me l'ho tornata dunque eh devi saltare anche se salti magari eh sto facendo viva eh ora vai veloce io però mi fermo più oh c'è la spada non mi fermo più tenete la spada ti vuoi dare la spada c'è la spada là per terra oh gira te Luca ti prendi eh ma prendi oh karma guarda io c'ho la spada in aro pensa a poco oh vai superate l'alberi eh le spade oh ti hai chi vuole i pantaloni in aro io a lui che dice un gioco vieni vedete qua non andate là sopra gli alberi eh qua dove sto io vedete ok ahhh che gentaccia che puoi sosti eh andate quelle bene oh no oh no oh si infatica portami allora oh fermo tieni tieni Ale che vuoi tua sorella no scattato eh te lo spai eh lui no io ho portato il comune io stavo mandato Luca ti vede Luca ti vede la roba dammi la roba dammi fu mi vede la roba oh Ale cosa sei una merda perché perché sei una merda eh tu sei tumore eh 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 scusi come? eh come? che mi hai detto? guarda che ti do controlla dentro la cesta non me ne posso legare de meno no no ti do i diamanti ah io me la c'ho 4 diamanti mo andiamo tutti i spawn c'ho 4 diamanti in uno stick bravo bravo oh a chi servono i pantaloni in ferro? oh ma io ce l'ho giocato a te scherza a me mi servono e chi ti dà a te? tu hai bagonata? eh in ferro so più forti eh dammi allora eccolo no davvero l'hai scoperto no io non mi servono i giocati no io non mi servono i giocati oh la prima volta che gioco oh che è? 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 che è arrivato? e l'ho lasciato la per terra beh io mi so fregato pure non mi servono i giocati eccoli grandi so povero che buona aiuto aiuto oddio aiuto 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 alex te coni dico eh fermi scappa scappale io 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 dirai tutti quanti eh l'ho chiudato l'ho chiudato erano due l'hai chiudati tutti e due bravo io io ti ho preso tutto te hai preso alex hai preso tutto tu ah oh tieni 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 erano messi di merda oh oh sei fu il ferro fermo giri c'hai pure il coso oh te giri vero eccolo mancano solo i pedini peale vabbè ma li troviamo andamò lo spawn raga io ho perso ah no guarda che figo luca c'hai le mele d'oro sta partita si due se vuoi tenete un arso no no allora mori ma andamolo spawn ti avevo perso no no spero ah no seguimi sta là sta là ti vuoi tutto avanti ma cosa lo spawn raga ho trovato un arso pensavo che eravate voi no ho visto mi sto bene mi sto bene c'è i piedini andamolo a chi la no ok mi fa il culo dici no no ma che io ho tolto tre io ho tolto io ho tolto ora le due aspetta oh ma che guarda è scarso io ho tirato pure due frecce vengo pure io vengo pure io io sto più veloce di tutti si 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 ma hai preso no aspetta io ho tolto ho sto a puntare la meraviglia d'arco l'arco ho fatto ho fatto che sei è stato un arco ti do lo sprint teale oh ce n'è un altro fermi oh non è bene a me luca no no ti preoccupi muori pure io muori muori ma mi stai a meno a me eh vero ma sti grave oh ecco guarda qua guarda cosa stanno asplodendo lo sto a ammazzare insedibile l'ho chillato vai l'ammazzare lo sto mannaccia a te che sto oh non di ste cose oh andammo allo spawn sennò prima poi non fammi il tempo a fare spegnamante oh tutti allo spawn regà eh dove sta oh luca non andai a segui quello eh io l'ho già seguito l'ho ucciso eh eh vabbè ora vedi dallo spawn e dove sta lo spawn ma come non c'è dove sta lo spawn ah i cavietti madonna dove sta regà allo spawn via allo spawn e lui manco lo sa per ah io ci sta già io pure ah io sto qua sto qua c'è la i diamanti luca c'è una al centro c'è una al centro c'è una al centro so io no no c'è un'altra se stiamo a toni come sta dietro è quello che stava inseguendo luca vero si però mi spiace ma l'ho chillato io l'ho chillato io l'ho chillato? si l'ho chillato quando sta regà? allo spawn al centro al centro centro? si al centro centro ok qualcuno mi ha buttato qualcosa io no oh se vieni al centro ti do la spawn no ho perso i piedini ferro no è davanti si ho ricazzo il presente tu stava mazza quello eh eh questo dopo te l'hai chillato ah si dove ti ho rubato la kill eh io sto la ah ok non vengo ti do pure una corazza di diamante ti do te sto dietro davanti adesso adesso ok ok io ora ne manca uno andiamo a cercare quello che manca ma io vedo tutto stai sulla strada luca si sono sulla strada io vai nella direzione in cui vanno le macchine vai nella direzione in cui vanno le macchine eh ci sto andando viva 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 lasciamo fuoco guarda oh io sono andato nella direzione ecco ti dovi no non è vero non vedi la tua buschia se ti c'è te oh se ti c'è te se ti c'è te la direzione delle macchine c'è stanno due direzioni eh te vai quella che ti porta tipo un vetro che non puoi supera eh la o hai morto qualcuno ecco t'ho trovato t'ho trovato t'ho trovato te sto dietro mi vedi ecco te si hai di eccomi oh usa la spawn diamante che ti ho dato prima ma ah no è che usavi la spada in pietra buffone oh oh mamma no l'isciel eh guardi io mi aspetto che te le giri e me lascia il fuoco oh oh fermate eh eh chi si muove dove stai Ale oh vieni sta a scendere oh vieni vieni ma che metti a chi la no io sto fermo oh c'è uno che te sta frecciare che lo vedi eh poi ce lo vedo uno ecco là sull'albero là sull'albero vieni sta a scendere oh vieni sta a scendere eh raga c'è un'albero raga 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 porco tu no mi sta mangiando quanti cuori hai uno scappa lo chillo io mangia la mela d'oro non ce l'ho tiè 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 io qua non c'ho le mele eh tota dai io l'ho chillato l'ho chillato siamo solo nei 3 ora ci diamo adesso no oh appena inizia il death match famo tutti contro tutti ok sei pronti? eh no aspetta che sto bene no vabbè va intanto c'è ancora l'invincibilità ecco vai oh io e nici oh non stai dove sei alu? ale ale bello ma che farei sempre dentro la stessa macca? oh stiamo tutti dentro e qua dentro se dovevo chillare lo scopo è chillare oh chi è questo? ah è luca vieni tu ah 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 io ne avevo vinto te sto dietro eh ah 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 ok oddio vedi ale che me freccia aia mi sta frecciando non c'ho più vita oddio oh tutta la vita c'ho sei morto ah il flema fa bene 10 ale vedi sei imparato a usare l'arco venga dnt 10 oh mi ha dato fuoco oh io sto qua accanto a te no 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 ti hai killer anche se hai giocato il diamante ti chillerò lo stesso oh calcola mi hai preso sono volato guarda guarda eh lo so eh calla Ale non puoi scappare dove stai? è sparito oh non lo vedo più qua è buio non ci capisco niente lo dico io dove sta eh vai eccolo sta qua oh Ale 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 oh che ti metti a dnt in faccia questa è maleducazione e io ci sono andato pure addosso oh ma che ti mangi le mele aiuto oh mi sono andato Ale 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 vieni qui oddio tre volte di fila quattro volte di fila cinque volte di fila quanta vita ci avrei mai, ti ho preso 5 volte di fila e vinci nooo 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 che non lo sai ok ragazzi Ale è stato distrutto come la merda Luga pure oh ragazzi vaffan bella lei ci vediamo nel prossimo episodio questo video qua anche fino e qua noi ci vediamo nel prossimo episodio l'ho già detto bella 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 to bella �